Su iniziativa dell'Associazione Sportiva Direttantistica Ruta Libera, nel pomeriggio del 24 dicembre, presso il Circolo della Cultura Carmelo Lagiglia di Nicosia è stata ricordata la figura dell'imprenditore nicosiano Nino Rizzo. Il commentatore Nino Rizzo è stato un pioniere dell'imprenditoria nicosiana. Negli anni 60 e 70 riuscì con il suo ingegno a far conoscere Nicosia in tutta la Sicilia, facendola divenire la capitale del mobile. Il suo impegno non si fermò solo allo sviluppo imprenditoriale della sua terra, ma fu anche un mecenale dello sport locale. Oltre ad aver sponsorizzato la squadra di calcio dell'Unione Sportiva Nicosia, fu anche tra coloro che avviarono l'attività ciclistica a Nicosia attraverso la sponsorizzazione della prima società ciclistica nicosiana. I soci dell'Associazione Sportiva Ruta Libera si sono ritrovati presso il Circolo della Cultura di Piazza Garibaldi per ricordare la figura di questo illuminato imprenditore nicosiano. Ha preso la parola Massimo Campo, socio di Ruta Libera, accompagnato dal presidente Salvatore Di Pietro che ha ricordato l'attività sportiva del commentatore Rizzo. Poi ha preso la parola il professor Michele Casalotto, presidente del Circolo, che ha sottolineato e ricordato con commozione la figura dell'amico, dell'imprenditore e del socio del Circolo che oggi presiede. La cerimone si è conclusa con la consegna di una targa ricordo ai familiari dell'imprenditore nicosiano, ai nipoti ed alla figlia che hanno apprezzato il gesto, ringraziando i soci del Circolo e di Ruota Libera. Il 24 aprile 2016 si terrà la quarta edizione della Gran Fondo Valdemone, gara ciclistica secondo Memorial Nino Rizzo, quinta tappa della Coppa Sicilia che già lo scorso anno gli fu dedicata.